Sono tre gli avvisi di misura cautelare operati stamattina dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sulmona, coordinati dal dirigente Francesca Alachioma. L'evento risale al 20 settembre, l'aggressione a un giovane 24enne di Sulmona. Ai domiciliari da questa mattina tre ragazzi di etnia Rom, si tratta di due maggiorenni e di un minorenne. Parliamo di Massimo Di Rocco, 21 anni, e di Luigino Spinelli, di 19. Il minore invece ha soli 15 anni e anche lui è i domiciliari. Abbiamo riscontrato nell'ultimo periodo diversi episodi che hanno visto poi con i siti giovanissimi, sicuramente legati all'eccesso di consumo di sostanze accoliche, ma anche di sostanze stupefacenti. In particolare il 20 settembre c'è stato questo episodio, le quattro e mezza di notte nel centro di Sulmona, davanti al Palazzo dell'Annunziata. Sono stati feriti otto persone. Oggi abbiamo eseguito tre misure di custodia cautelare di caressi domiciliari nei confronti di tre soggetti di etnia Rom e di Sulmona, che hanno picchiato prima un ragazzo e poi successivamente hanno anche ferito queste altre sette persone. In particolare i due feriti hanno avuto prognosi piuttosto importanti, al momento uno di 45 e uno di 50 giorni. Quindi sono episodi di violenza sicuramente da non sottovalutare. In questo caso c'è stata anche una risposta importante da parte della magistratura, sia da parte della procura del Tribunale di Sulmona, ma anche della procura del Tribunale per i minori dell'Aquila, in quanto uno dei ragazzi coinvolti è un 15enne. Per cui sicuramente la preoccupazione è elevata, considerata l'età giovane. Anche gli altri due hanno uno 19 e uno 21 anni. Grazie a tutti